Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine solito, usuale, a voi ben conosciuto della mia libreria. Sì, purtroppo la gufata non è servita, il ciolo si è malamente suicidato ieri sera, Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo e che vedevo da dire, le gufate non sono servite, sarà per la prossima, va bene cari signori, allora torniamo un attimino seri, allora cari signori dunque forse ricorderete che circa un anno fa ho recensito in un video un libro che avevo giudicato estremamente interessante, un libro scritto da Massimo Fraquelli che si intitolava omosessuali di destra, ok? In questo libro si parla del curioso e oserei dire strano legame che c'è tra l'omosessualità e la militanza di destra o addirittura di estrema destra. In questo libro si raccontava la storia del movimento dei Van der Vogel, si raccontava la storia di Röhm e dell'SA, si raccontava la storia di svariati estremisti di destra moderni che erano apertamente e dichiaratamente omosessuali. Insomma, signori, siamo sinceri, se il 10% si dice che il 10-15% della popolazione mondiale sia omosessuale, logicamente ci sono anche omosessuali di destra, mi pare, logico, ma che cosa è successo? È successo che all'improvviso dopo un anno da che io pubblicai quel video salta fuori tal signor Gattopardo. Sentite un po', in questo, e sentite cosa dice, in questo video, e sicuramente anche nell'opera di Fra Quelli, si fa del volgare sensazionalismo e della squallida disinformazione. Si cerca di far passare il mondo della cosiddetta estrema destra e affini come un mondo ipocrita, contraddittorio, falso, eccetera. In realtà le cose non stanno così, e fra quelli, come questo signore del video, cioè la brutta faccia che vi sta parlando in questo momento, estremizza e forza alcuni episodi per far dire ad essi quello che in effetti non dicono e non significano. Come si fa a dire che Evola era un culatone? Ma veramente non lo dico io, lo diceva Tremaglia, lo diceva Mirko Tremaglia, lo dicevano anche i molti che lo hanno conosciuto, ma io, e lo dicevano anche alcuni studenti di filosofia, insomma alcune persone che sanno di filosofia e che me ne hanno parlato, ma lasciamo stare. Allora, ma avete letto le sue opere e i suoi articoli in cui l'omosessualità è condannata quale uno degli esempi della decadenza moderna? Vizi privati pubbliche virtù, signor Gattopardo, si potrebbe allora suppurre, come autore condannava e in privato si faceva i fatti suoi ipocritamente, ok? Ma le prove di ciò dove sono? Io ho citato le mie fonti, il professor Fraquelli, le testimonianze di Tremaglia e svariati libri, come dire, e svariati libri in cui si parla della presunta omosessualità di Evola che oltretutto veniva tacciato di essere anche menagramo, porta sfiga e iettatore, ma questo è un altro discorso. Allora, è possibile che sia sufficiente una semplice buttata di un individuo, ammesso poi che l'abbia detto veramente per dire questa cosa? E comunque, ammesso che lo abbia detto veramente, molto probabilmente costui si è ispirato alle dicerie messe in giro su Evola già durante il fascismo da alcuni ambienti ultrasquadristi, i quali, vedendosi contestata la loro violenza fine a se stessa in nome di valori più alti, non sapevano fare altro che definire Evola provocatoriamente un uomo sessuale, che addirittura in privato si sarebbe fatto chiamare Giulia. È palese l'invenzione, atta a smidunire e denigrare. Evola provvide per questo ed altro a frustare il direttore del giornale ultrasquadrista. Almeno informatevi prima di vomitare certe scemenze. Disse la vacca al mulo. Scusate, vabbè. Io ho risposto, le ho detto, ma le faccio giusto una domanda solo per curiosità. Ma il signor Gattopardo ha letto o no l'opera del professor Fraquelli? Da quello che si evince, ovvero sia, in questo video e sicuramente anche nell'opera del Fraquelli, quindi si evince che il libro non lo ha letto, io gli ho detto, prima di fare dichiarazioni, ho detto, lo legga sto libro, insomma. E il signor Gattopardo risponde, non provare a fare l'acculturato con me. Conosco le tematiche di cui parla il libro e se in esso ci sono le cose che hai detto tu, visto che dici di aver fatto una recensione, sono completamente fuorvianti e quindi faziose e false nelle conclusioni. Ti ho già spiegato il perché. Prova a smentirmi. Sei politicizzato e accecato dall'odio che maldestramente cerchi di nascondere. Aridisse la vacca al mulo. Eh, scusate, scusate, scusate. Cioè, qui siamo veramente a livelli del Bove che dice Cornuto al Somaro. Insomma, scusate. Cioè, questo, insomma, in pratica, sto signore, il signor Gattopardo, non ha letto il libro, se ne vanta, dice di sapere già tutto lui, però quello che fa disinformazione sono io. Vabbè. Poi il signor Gattopardo ricomincia con una lunga e verbosa pappardella. Quindi, statemi bene a sentire. L'estrema destra, o comunque la si voglia chiamare, è assolutamente incompatibile con l'omosessualismo e affini. Omosessualismo? Dovrò fare una telefonata all'Accademia della Crusca perché omosessualismo va bene per il semplice fatto che esso è sempre stato visto come un mezzo di distruzione della società e dei valori tradizionali. Ne è proprio sicuro? Ne è proprio sicuro, sicuro, sicuro? Vabbè. Non è un caso che esso è stato difeso e propagandato dalle sinistre, allora come oggi. Signor Gattopardo, dovrei farle vedere qualche manifesto di propaganda sovietica e soprattutto dovrei ricordarle che cosa scriveva Che Guevara a proposito dei gay e soprattutto dovrei anche ricordarle alcune cosucce combinate dai comunisti contro i gay ma evidentemente lei, signor Gattopardo, gnafa, ok. Allora, far passare l'estrema destra come una sorta di sinistra ipocrita è storicamente e culturalmente sbagliato. Io ho sempre detto che gli estremi si toccano ma qui siamo al limite. Serve a chi cerca di disinformare e creare confusione. Aridangete! Io sento puzza di tapparello qua o di Accademia della Libertà ma continuiamo un attimo. e questo al di là di alcuni personaggi ed episodi che però vanno ben inquadrati e contestualizzati. Su alcuni esponenti recenti dell'estrema destra tipo quello che addirittura finanziava riviste gay errore, non le finanziava le riviste gay né era l'editore, signor Gattopardo. Prendendo per buono che fossero davvero prendendo per buono che fossero davvero prendendo per buono che fossero davvero omosessuali non lo so e non li conosco. Cioè io ho parlato di un libro in cui si parla di omosessuali di destra ho fatto nomi, cognomi nel libro del professor Fraquelli ci sono questi dati ma il signor Gattopardo non lo sa, non li conosce. Ne parla, parla senza sapere quello di cui parla. Cioè signori, siamo spettacolari qua. Allora, su alcuni... Allora, dicevo bisogna chiedersi se costoro fossero davvero di estrema destra dato che questa area politica ha sempre ideologicamente condannato l'omosessualismo visto come mezzo che i poteri forti hanno utilizzato come mezzo di sovversione così come hanno fatto il cattolicesimo e l'islam a differenza delle sinistre e di un certo liberalismo e se fossero stati questa è una perla, tenetevi forte e se fossero stati solo degli infiltrati per seminare idee sovversive in un ambiente notoriamente contro l'omosessualità per distruggerlo dal di dentro così come si sta facendo col cattolicesimo e l'islam fatevene una ragione dice il signor Gattopardo l'estrema destra non è la sinistra siete solo dei volgari disinformatori e tetri sensazionalisti queste storielle e forzature ricordano la storiella diffusa dei servizi segreti americani controllati dagli ebrei dell'hitler drogato e omosessuale e pure ebreo ma andate a farvi fottere sinistrorsi del cazzo io che vi devo dire io gli ho risposto a tono gli ho detto la lingua batte dove il dente duole e scommetto che a qualcuno il deletano prude il signor Gattopardo poi si adonta via più e dice la minzione te la fa un trans in quella faccia da burattino sinistrorso in quella faccia da burattino sinistrorso che ti ritrovi del resto a voi di sinistra piacciono i trans la mia lingua batte per la verità batte per la verità e contro la tua cioè mia volgare disinformazione prude a te il deletano visto che da bravo sinistrorso chissà quante volte lo hai usato per compiacere i tuoi amici gay allora c'è da dire una cosa a proposito dal mio culo io disgraziatamente sono stato operato una decina di volte all'intestino tramite colonoscopia per l'eliminazione di alcuni polipi quindi il mio culo è ampiamente sistemato diciamoci la verità ecco che vi devo dire lasciamo stare tra l'altro come dissi a un senatore della repubblica io non sono omosessuale non ho questo onore se stai cercando di rimorchiarmi hai sbagliato persona ok ok grazie a tutti